Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpa. Oggi martedì la risalita verso nord della tempesta Minerva richiama un flusso intenso nord orientale sulla Liguria determinando deboli piogge sparse, eventi anche di burrasca forte sul Levante. Situazione che resterà pressoché mutata anche mercoledì e giovedì con tempo grigio, possibili deboli precipitazioni, eventi forti di burrasca da nord nord est. Il dettaglio oggi martedì 16 maggio, molto nuvoloso con rare schiarite, possibili piovaschi specie sui versanti padani, venti forti di burrasca da nord nord est, locale burrasca forte su rilievi a Levante. Mare poco mosso sotto costa, localmente mosso sui capi di Ponente, molto mosso a largo. Temperature massime in calo anche deciso sul centro Levante e in aumento a Ponente lungo la costa tra 20 e 26 gradi, nelle zone interne tra 17 e 25 gradi. Domani mercoledì 17 maggio cielo in prevalenza coperto con possibili piovaschi più probabili sui versanti padani, venti da nord nord est forte di burrasca, rafficati su crinali e gli sbocchi delle valli. Mare tra poco mosso e mosso sotto costa, molto mosso a largo per onda da nord nord est. Temperature minime in aumento specie nell'interno dove saranno intorno 12-13 gradi, mentre sulla costa tra 16 e 18 gradi. Massime in calo lungo la costa tra 19 e 24 gradi, nelle zone interne tra 16 e 21 gradi. Dopodomani giovedì 18 maggio ancora cielo in prevalenza coperto con rare schiarite e possibili deboli precipitazioni in particolare sui versanti padani nell'interno di Ponente. Intemporanea attenuazione nel corso della giornata e ripresa in serata a partire da Levante. Venti moderati forti da nord nord est sul centro ponente, locali brezze su Levante e in Periese. Mare poco mosso sul centro levante, mosso a largo e localmente sui capi di Ponente. Temperature minime stazionario in lieve calo lungo la costa tra 15 e 17 gradi, nelle zone interne intorno 11-12 gradi. Massime in lieve aumento lungo la costa tra 20 e 23 gradi, nelle zone interne tra 16 e 19 gradi. È tutto, seguiti dagli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sui social d'agenzia e ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play e Apple Store. Risentirci! Ehi! Ehi!